Grazie a tutti Molise in testa per cure fuori regione, la quota più elevata in Italia della cosiddetta mobilità ospedaliera lo rivela un rapporto Istat che certifica la mancanza di fiducia dei cittadini nel sistema sanitario regionale Applicare la Costituzione no al pareggio di bilancio, la proposta dell'Associazione Casa del Popolo a Campobasso un incontro per discutere delle difficoltà della gestione delle amministrazioni comunali Piazza Savoia cambia nome, dubbi e perplessità a Campobasso la scelta del comune di intitolare il largo a Falcone e Borsellino nessuna consultazione popolare, né pareri di urbanisti, molti gli scettici Play-off interregionali arriva all'Agropoli, sabato al Cimitelle di Agnone la gara d'andata tra i Campani e il Vasto Girardi il ritorno tra dieci giorni, sabato a Trivento, le finali play-off allievi e giovanissimi Buon pomeriggio, un saluto dalla redazione ben trovati all'edizione delle 14 del telegiornale dunque questa mattina l'incontro tra Donato Toma, il nuovo governatore e i giornalisti ai quali ha presentato i quattro assessori per i quali ha firmato un decreto di nomina e poi ha annunciato anche che il quinto assessore sarà nominato dopo l'elezione del Presidente del Consiglio che evidentemente avverrà alla prima seduta del Consiglio regionale si è discusso naturalmente di tanto altro cominciamo da qui con Pasquale Di Bello Il giorno dopo la firma del decreto di nomina degli assessori regionali Donato Toma, Presidente della Regione Molise chiarisce in un incontro con i giornalisti il criterio che ha ispirato la sua decisione il metodo che ho adottato, dice, è quello della rappresentatività delle liste ho scelto di procedere considerando l'espressione del voto popolare e sarà questo il criterio generale che adotterò anche per il futuro Toma svela così il retroscena legati alla nascita della Giunta un esecutivo che era stato annunciato a tre in un primo momento poi si era allargato a cinque e infine si è attestato a quattro per il passo indietro della Lega entrano nell'esecutivo Cavaliere di Baggio per Forza Italia Cotugno per Orgoglio Molise e Niro per i Popolari per l'Italia è lo stesso Toma a comunicare di aver ricevuto una nota formale dalla consigliera leghista Ida Romagnolo di sospendere la propria nomina in predicato di formalizzazione la leghista si è sfilata optando di correre per il ruolo di presidente del consiglio regionale posizione che verrà assegnata solo il prossimo 21 maggio allorquando l'assise regionale si riunirà per la prima volta solo dopo questo appuntamento si potrà procedere alla nomina del quinto assessore Le cose direi che sono andate abbastanza bene c'è stato un confronto sereno con i partiti e con i referenti delle liste civiche c'è stato poi un altro confronto sereno con i consiglieri eletti dopodiché ho preso le mie decisioni tenendo conto appunto di concertando con tutte queste parti In prima battuta avevo compreso anche la Lega poi la prima eletta della Lega mi ha fatto una richiesta di sospensione Siccome è una posizione che non danneggia il partito Lega ho pensato di sospendere e di attendere l'esito del consiglio prossimo Penso di procedere con la quinta nomina tenga presente che comunque la quinta nomina non poteva essere fatta ieri perché ieri ho promulgato la norma che modificava lo statuto e portava da 4 a 5 il numero massimo degli assessori Le caselle scoperte a questo punto sono due come due sono i candidati Lizza, Quintino Pallante per Fratelli d'Italia e Salvatore Micone per l'Udc Tra loro si dovrà scegliere l'ultimo assessore e il sottosegretario alla Giunta un ruolo quest'ultimo a cui Toma attribuisce grandissima rilevanza se fossi un eletto e non il presidente dice chiederei il ruolo di sottosegretario una figura di raccordo tra Presidenza, Giunta e Consiglio a cui ho intenzione di assegnare funzioni importantissime il dato più rilevante però dice Toma è che gli assessori saranno a tempo determinato ogni sei mesi ci sarà una verifica e poi la eventuale riconferma sulla base degli obiettivi raggiunti il quadro quindi si va componendo di ora in ora ma a questo punto l'appuntamento fondamentale diventa quello del 21 maggio con la prima riunione del Consiglio regionale a fine della conferenza stampa Toma ha annunciato di aver sbloccato 9 milioni di euro fermi e di averne destinati 7 milioni e 300 mila a comuni e province per il pagamento alle imprese degli arretrati al 31 dicembre 2017 e al neopresidente Toma ha formulato gli auguri di buon lavoro il movimento agricolo molisano diminuire i costi produttivi più qualità per recuperare la competitività sui mercati siamo fiduciosi hanno detto al MAM del neogovernatore che non dimenticherà lo stato drammatico in cui versa la nostra agricoltura quella che durante la campagna elettorale ha avuto modo di conoscere metterà in mani capaci ed esperte l'importante delega del settore primario di questa regione un settore hanno concluso dal movimento agricolo molisano per lungo tempo ignorato e abbandonato in particolare in Molise che va reintrodotto nell'agenda delle iniziative politiche di primo intervento il MAM confida nella nuova classe dirigente del nuovo governo e in particolare nel presidente Toma c'è una spada di Damocle che pende sulla testa sulle teste degli amministratori locali parliamo del pareggio di bilancio introdotto dalle riforme recenti l'associazione Casa del Popolo a Campobasso ha organizzato un incontro per discutere proprio di questo tema e applicare la Costituzione proponendo di abrogare il pareggio di bilancio ce ne parla Tonino Danese Concetti espressi con chiarezza applicare la Costituzione e abrogare il pareggio di bilancio su cui l'associazione Casa del Popolo di Campobasso braccio operativo sul territorio di potere al popolo ha inteso focalizzare l'attenzione in un incontro dibattito al comune del capoluogo Da un tema economico abbiamo cercato ovviamente di dare un taglio che sia un taglio sociale nel senso il mutualismo l'orizzontalità e quindi più che l'educazione far riavvicinare semplicemente le persone a questi temi può portare anche a una comprensione e soprattutto a una prassi che sia diversa non basta dire non voglio il pareggio di bilancio in Costituzione dovremmo come cittadini dare un'alternativa il problema grande credo in questo momento in Italia è la mancanza di prospettive l'alternativa è ritornare sicuramente a uno Stato che non guardi solo al lato economico la sanità, la scuola, i diritti fondamentali il diritto alla casa, all'abitare sono cose che non possono essere guardate semplicemente come un termine di economizzazione per lo Stato Il professor Michele Della Morte docente di diritto costituzionale all'Università del Molise ha analizzato la questione alla luce della legge e dell'attualità economica, storica e politica Come si struttura e come istituzionalmente si dimensiona un bilancio è un elemento in questo momento anche sulla base della nostra appartenenza all'Unione Europea un tema di importanza capitale L'abrogazione mi sembra che sia un elemento simbolico più che altro simbolico cioè un'idea di un'iniziativa popolare che porti a superare una idea stringentissima di vincolo di bilancio nato in un momento nell'ambito del governo Monti per dare attuazione ad alcuni mandati comunitari probabilmente in modo improvvido e certamente in modo affettato La Costituzione è un edificio un'architettura complessa e al tempo stesso fragile ha bisogno di continue manutenzioni e non certo di interventi demolitori che ne incidano le strutture Si sono susseguiti sul tema anche gli interventi di Mino Dentizia Dele Fraracci e Antonio Delellis e non sono mancati gli spunti di riflessione con i presenti in sala È il Molise la regione con la quota più elevata di mobilità ospedaliera in uscita con il 26,6% dei ricoveri dei residenti il dato si riferisce al 2016 seguono la Basilicata e la Calabria lo rivela il rapporto annuale dell'Istat sottolineando come queste stesse regioni hanno la percentuale più bassa di cittadini soddisfatti per l'assistenza medica ospedaliera ricevuta nel luogo di residenza e rispettivamente quindi il 25, il 12 e il 21% le regioni più attrattive invece sono la Lombardia e l'Emilia Romagna che effettuano ricoveri in entrata per ogni ricovero in uscita dalla regione A Termoli invece è stato presentato un nuovo servizio in materia urbanistica si chiama SIT sito di interesse territoriale destinato ai cittadini alle imprese ma anche ai servizi del Catasto il sindaco Sbrocca lo ha definito rivoluzionario il servizio è di Manuela Iorio Le informazioni in materia di urbanistica portata di tutti da oggi è possibile a Termoli dove l'amministrazione ha lavorato per due anni alla realizzazione del SIT sito di interesse territoriale un servizio importante per cittadini e professionisti basta tempi di attese e richieste di accesso agli atti per gli addetti ai lavori che ora sul sito internet del Comune nella sezione territorio possono trovare tutte le informazioni di cui hanno bisogno quanto a normativa mappe piano regolatore tutto ciò che ruota intorno all'urbanistica quello che era su carta è stato digitalizzato con un prezioso lavoro della struttura comunale che su indirizzo della Giunta ha reso disponibile per tutti un enorme patrimonio di informazioni è un servizio che ha del rivoluzionario ha commentato il sindaco Angelo Sbrocca e che rappresenta la massima espressione della democrazia digitale che abbiamo perseguito con fatti concreti il servizio è stato presentato dal sindaco insieme al dirigente all'urbanistica Livio Mandrile che nel dettaglio ha illustrato il sito con le relative sezioni dove è possibile trovare anche tutte le leggi dello Stato sull'edilizia e dove c'è un archivio con 36.000 pratiche edilizie il tentativo del sito è di raccogliere internamente qualsiasi informazione territoriale sia disponibile sul territorio di Termoli troviamo delle cartografie numeriche troviamo le cartografie digitali dell'Igm troviamo delle carte nautiche delle carte storiche delle ortofotocarte troviamo tutta la modulistica che deve utilizzare il professionista per presentare le pratiche al comune di Termoli il piano regolatore stiamo inserendo tutti i vincoli territoriali idrogeologico piuttosto che storico-ambientale paesaggistico insomma tutto quanto può servire all'attività professionale ma tutto quanto può essere di interesse anche per il cittadino per conoscere il proprio territorio oppure per studiarlo può essere tranquillamente utilizzato dall'università in funzione come dire della sovrapposizione dei livelli informativi che noi rendiamo disponibili questo strumento da parità di condizione a cittadino e pubblica amministrazione l'augurio è che questo sia un percorso ormai avviato e dunque irreversibile ha aggiunto il sindaco il riferimento di sbrocca al lavoro iniziato già nel 2007 con il sindaco greco quando era stata avviata la digitalizzazione del piano regolatore poi con la nuova amministrazione era stato tutto interrotto ha continuato sbrocca e il server con i dati buttato in soffitta lo abbiamo ritrovato per caso e quando abbiamo visionato il contenuto abbiamo ripreso il progetto ha fatto sapere sbrocca che si è detto orgoglioso del sito e del lavoro svolto dalla struttura comunale a Campobasso potrebbe cambiare nome piazza Savoia che il comune ha deciso di intitolare ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino il progetto è stato già approvato dalla struttura comunale ma sono in molti ad essere perplessi e ad avere dubbi sentiamo un disegno urbanistico preciso una logica nella toponomastica fin dalla definizione del borgo antico e poi all'esterno della cinta muraria Campobasso ha avuto un'espansione che ha seguito un criterio quello di circondare il monte con il castello Monforte per poi diramarsi a raggera verso le campagne più di due secoli fa l'idea di sviluppare la città con un progetto ottagonale lebbe Berardino Musenga architetto al quale di recente è stata intitolata la Villa dei Cannoni il giardino che separa il municipio dalla caserma quell'idea racchiude peraltro le tre direttrici lungo le quali si sarebbe espansa a Campobasso via Roma Corso Vittorio Emanuele via Lelena tutte e tre confluiscono in piazza Savoia davanti a Villa De Capoa uno schema non solo urbanistico e architettonico ma che viene ben evidenziato anche dai nomi delle strade tutte intitolate a città a valle di via Roma mentre la toponomastica è tutta legata all'unità d'Italia nella direttrice principale che parte da Corso Mazzini via Cavour via Garibaldi attraversa Corso Vittorio Emanuele via Lelena e sfocia in piazza Savoia per poi proseguire su via Conte Rosso via Ducadaosta e via Conte Verde ora il comune ha deciso di intitolare il fulcro di questo disegno ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di cambiare cioè nome a piazza Savoia per dedicarla ai due magistrati martiri della mafia il valore e i valori espressi da questi due immensi servitori dello Stato non sono in discussione resta da capire e le spiegazioni fin qui giunte sono per la verità inconsistenti per quale motivo non si sia scelta una zona diversa oppure di intitolare una scuola o quel polo scolastico che da tempo Palazzo San Giorgio propaganda come progetto bello e realizzato il tema e uno dei chiarimenti che arrivano dal municipio è stato dibattuto e analizzato dalla commissione urbanistica così 4, 5 o quanti sono consiglieri comunali si assumono la responsabilità e il diritto di modificare la storia un'idea di città e una tradizione consolidata solo immaginare che possa accadere ad ogni legislatura rende l'idea di quanta distanza ci sia tra chi la città la pensava e chi invece vuole trasformarla a Roma l'Assemblea Nazionale dell'Associazione Antonino Caponnetto che si prefigge la lotta contro le illegalità e le mafia ha eletto all'unanimità dei consensi l'Avvocato Erika Cieri del Foro di Larino componente del Direttivo Nazionale l'Avvocato si aggiunge a Roberto D'Aloisio responsabile del Comitato Scientifico dell'Associazione da oggi anche a Isernia con l'applicazione YouPol che è possibile scaricare su qualsiasi smartphone sarà a disposizione del cittadino la possibilità di denunciare fatti e reati sentiamo Sergio Di Vincenzo YouPol la nuova app della Polizia di Stato contro bullismo e droga fai una segnalazione si chiama YouPol la nuova applicazione compatibile con tutti gli smartphone e tablet che consente di segnalare in tempo reale alla Polizia di Stato casi di bullismo o dispaccio di droga il nuovo servizio partito in via sperimentale in alcune questure italiane da oggi è attivo anche a Isernia questo progetto è importante perché sicuramente dà la possibilità di un maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione del mondo giovanile del mondo adolescente perché dà a loro la possibilità anche in forma anonima di segnalare fenomeni di bullismo o dispaccio di sostanze superfacente nelle varie parti del territorio e della città ovviamente sarà nostra cura andare anche nelle scuole perché vogliamo che effettivamente i giovani siano coinvolti soprattutto capiscano l'importanza di questa applicazione che non è un semplice gioco ma è un qualcosa di importante che dà anche loro la possibilità di intervenire e di rendere più sicura e più tranquilla la vivibilità del territorio l'applicazione è intuitiva facile da usare oltre a dare la possibilità di fare chiamate di emergenza alla sala operativa della questura permette anche di allegare le foto dell'episodio che si vuole segnalare come tante applicazioni gira sul circuito Apple Store Play Store si può scaricare su smartphone e tablet necessita comunque di un codice di attivazione e di una registrazione nel momento in cui si fa una segnalazione identificata perché c'è anche la possibilità di inviare segnalazioni anonime semplicemente dove la persona non vuole interagire con gli organi di polizia nel momento in cui invece ci si registra quindi si fornisce nome e cognome numero di telefono si ha una serie di benefit che permettono di interagire con i nostri operatori della sala operativa ciò vuol dire quindi ricevere comunque un messaggio di presa in carico della segnalazione poter inviare un sollecito e essere messo a conoscenza della chiusura della pratica la polizia di stato contro bullismo e droga e innovazione web è anche l'argomento del seminario rivolto ai commercianti dei settori preziosi e moda organizzato dalla conf commercio di campo basso nella sala falcione della camera di commercio patrizia testa le grandi opportunità offerte da internet e come i commercianti possono sfruttarle per promuovere le proprie attività queste le tematiche affrontate nel corso del seminario tenuto a campo basso dalla conf commercio molise dal titolo migliorare il presente inventare il futuro la sfida del cambiamento noi abbiamo sentito il direttore Irene Tartaglia presente cambiamento sono le parole chiave di questo nostro incontro questa mattina abbiamo voluto affrontare questi importanti momenti di cambiamento che stanno subendo i nostri negozi in quella che normalmente definiamo ormai era internet una fotografia della nostra situazione della situazione attuale del negozio come quella che può sembrarci oggi una criticità che è internet lo shopping online è sempre più frequente può diventare un'opportunità dove andare a prendere le opportunità quando non ci sono magari all'interno dei nostri negozi e abbiamo per questo fatto uno spaccato su una importantissima tradizione molisana che è quella del tombolo per ripescare riprendere nell'ambito della tradizione delle nostre radici un'opportunità perché no anche lavorativa in termini innovativi la formazione la riteniamo una cosa fondamentale personalmente ci credo ci investo tanto nell'ambito della nostra associazione cerchiamo di dare ai nostri associati agli imprenditori del territorio opportunità di formazioni gratuite innanzitutto per l'imprenditore che non può non cogliere anche lui l'opportunità e la necessità di formarsi e poi formazione gratuita per i dipendenti nell'ambito dei nostri progetti con i fondi interprofessionali con il nostro fondo forte particolare attenzione è stata rivolta al settore dei preziosi e a quello della moda a introdurre l'evento il presidente di Confcommercio Molise Paolo Spina specialisti si sono poi confrontati con i negozianti per aiutarli a trarre buoni spunti dal web Steven Tranquilli direttore Federpreziosi Confcommercio Massimo Torti segretario generale federazione moda Italia e Renato Borghi presidente federazione moda Italia e vice presidente nazionale Confcommercio Borghi dopo un'attenta analisi della situazione attuale a livello nazionale dei settori commerciali oggetto di discussione ha indicato dal suo punto di vista la strada da percorrere per muoversi verso l'innovazione indotta dalla rete La strada è quella di guardare con l'aiuto di consulenti quello che si può fare ci sono piccoli negozi in particolare il primo che l'abbiamo fatto noi a Milano una zona periferica un negozio di 70-80 metri quadri che vende calzature e che ha fatto un negozio completamente digitale dove il cliente tocca sulla vetrina dove entrando solleva una scarpa e viene scritto sullo schermo la storia del prodotto dove è prodotta come è cucita insomma tutte le informazioni ed è stato possibile ripeto per una piccolissima realtà questo diciamo avvicina la cultura nuova soprattutto dei giovani e quindi rappresenta un fenomeno di attrazione insieme a questo bisogna mettere la capacità di scegliere i prodotti buoni possibilmente made in Italy e quindi questa può essere la strada aprirsi all'innovazione mantenendo le proprie caratteristiche consolidate perché i nostri operatori sono bravi ha fatto tappa al pastificio la Molisana il progetto dell'Inps dell'Istituto Nazionale della Presidenza Sociale è un viaggio verso le aziende sentiamo Elio Rivezzi direttore regionale Inps un'iniziativa per fare consulenza un po' agli operai a chi comunque lavora sì diciamo più che una consulenza da fare agli operai che facciamo istituzionalmente sempre nei nostri siti istituzionali appunto è un'iniziativa che va verso le aziende conseguentemente anche verso gli operai cioè è tempo che le amministrazioni pubbliche si aprano al mondo esterno e l'Inps non può rimanere fuori anche perché l'Inps è della gente non è di chi ci lavora per cui in Italia in coincidenza con il 120esimo della celebrazione della nascita dell'Inps abbiamo pensato su tutto il territorio nazionale di avviare delle iniziative rivolte verso le aziende verso i giovani studenti e io direi anche verso tutte le famiglie tant'è che noi in Molise oltre all'iniziativa con la molisana che peraltro è una punta di diamante per questa regione per tutto ciò che ha prodotto e per tutto ciò che rappresenta faremo anche delle iniziative in occasione della celebrazione del Corpus Domini a Campobasso con delle casette di legno e in tre giorni renderemo consulenza a tutti Rossella Ferro è una grande opportunità per quella che è sicuramente l'azienda leader sì sì è una grandissima opportunità io ho accolto veramente con grande favore questa iniziativa quando ci è stata fatta la proposta dall'Inps e intanto ringrazio ringrazio la direzione ringrazio il direttore per chi ha scelto la molisana come appunto azienda d'eccellenza come azienda sana in regola con con i pagamenti per offrire questo servizio ai dipendenti perché noi siamo convinti che dobbiamo offrire ai dipendenti un benessere che non è solo il benessere alimentare facendo un prodotto sano sicuro buono ma un benessere in senso lato e quindi questa iniziativa consente a loro in casa quindi qui di avere tutte le informazioni rispetto a dubbi di questi distanze che hanno in un periodo in cui purtroppo spesso il sistema legislativo cambia e ci sono chiaramente delle preoccupazioni quindi siamo assolutamente contenti di questa bella iniziativa si gira in Molise a Civita Campomarano i Futurieri il nuovo corto del regista molisano Simone D'Angelo è ambientato a fine del Settecento vedrà come protagonisti personaggi storici Cuoco Gabriele Pepe Olimpia Frangipane il castello di Civita Campomarano sarà la location principale per l'occasione sarà fatto rivivere con arredi tendaggi e ambientazioni d'epoca i Futurieri un cortometraggio storico che unisce una rigorosa ricostruzione elementi fantastici e futuristici le riprese termineranno il 19 maggio gli alunni della scuola secondaria di primo grado Petrone di Campobasso invece saranno protagonisti del concorso a livello nazionale rivolto agli alunni del terzo anno di studi un concorso in latino la competizione è alla sesta edizione il certamen si avvale della collaborazione del liceo classico Mario Pagano e prevede una versione latina corregata da domande di analisi sintattica venerdì alla Petrone saranno ospitati una cinquantina di studenti che arrivano da fuori regione pronti a cimentarsi nella traduzione di un testo classico e a proposito di testi si parla del maggio dei libri a Isernia sentiamo Sergio Di Vincenzo il bullismo e la concreta opportunità di sconfiggerlo affidandosi ai diretti interessati i ragazzi questo è il filo conduttore dell'incontro promosso al cinema Lumière di Isernia dall'istituto comprensivo San Giovanni Bosco e dai borghi della lettura nell'ambito della manifestazione il maggio dei libri le classi prime e seconde dell'Andrea di Isernia hanno incontrato due scrittrici che hanno affrontato questo fenomeno affidandosi al genere fantasy abbiamo scelto il filone della lettura come libertà e come forma di espressione per cui i ragazzi hanno letto i due libri delle autrici Monica Serra e la Loriana Lucciarini una fantastica caccia al tesoro il duca di ferro che affrontano problematiche relative al bullismo e si concentrano in particolar modo sul genere fantasy quindi i ragazzi hanno letto i libri e poi hanno rielaborato attraverso attività multimediali attraverso analisi comparate e tutto ciò che si può fare nello scoprire un testo letterario Loriana Lucciarini ha parlato di bullismo nel romanzo una fantastica caccia al tesoro dovranno affrontare delle prove ognuno di loro verrà messo alla prova e scoprirà le proprie risorse queste risorse messe in comunione con gli altri permetterà ai ragazzi di risolvere l'enigma e di tornare alla realtà e affronta le tematiche del bullismo perché uno degli elementi uno dei ragazzi del gruppo è un leader nato comunque un prevaricatore verrà incluso grazie all'amicizia grazie al fatto proprio della collaborazione insieme agli altri quindi è importante e sono molto contenta di aver partecipato a questa iniziativa perché appunto il tema è il fantasy e quindi anche la letteratura può portare i ragazzi a ragionare su questi temi che sono sempre più stringenti nei giorni nostri tematiche analoghe sono state affrontate anche da Monica Serra nel romanzo Il Duca di Ferro è un'ambientazione ottocentesca con vapori macchine volanti una cosa un po' particolare dove si parla di diversità perché il personaggio principale subisce un incidente per cui si ritrova diverso da quello che era prima e viene estromesso da alcune attività viene non bullizzato perché è un adulto però comunque soffre di questa crisi di identità e di questa estromissione dalle attività normali stimola attraverso la lente fantastica la riflessione su tematiche abbastanza attuali e difficili Bene siamo in chiusura prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di stasera con Millibar alle 21 la trasmissione condotta da Pasquale Di Bello si parlerà del progetto No Tunnel di Termoli e della città in generale ospiti saranno Daniele Paradisi Antonio Di Brino e Michele Marone è tutto per questa edizione vi lascio alle previsioni del tempo ci rivediamo tra poco più di mezz'ora per gli aggiornamenti grazie e a più tardi grazie a tutti grazie a tutti